benvenuti alla nuova provincia live sono paola mercandino ed ecco le notizie del giorno ci sono anche sei biellesi tra gli ultimi arrestati per andrangheta in piemonte a finire in manette sono stati diego raso 37 anni di cavalià giovanni raso 53 anni di dorzano enrico raso 45 anni di cavalià giovanni raso 49 anni di dorzano catturato alcuni giorni dopo gli altri nel friuli dove si era rifugiato e giuseppe avenoso 58 anni di cavalià antonio miccoli 38 anni non residente nella provincia di biella ma assiduo frequentatore della nostra provincia e antonio raso 74 anni di dorzano agli arresti domiciliari le accuse mosse nei loro confronti sono di associazione mafiosa concorso esterno sequestro di persona e tentato omicidio gravato è stato assolto il pescivendolo di turino accusato dagli animalisti del meta di maltrattare le aragoste la sua colpa sarebbe stata quella di averle tenute nel ghiaccio con le che le legate la sentenza non è piaciuta agli animalisti che hanno protestato di fronte al tribunale di turino secondo il giudice che ha assolto il venditore per particolare tenuità del fatto non si può parlare di maltrattamenti ma delle abitudini e tecniche di conservazione in ghiaccio per crostacei comunque destinati alla vendita e alla cottura un bimbo di tre anni è rimasto chiuso all'interno dell'auto della mamma l'episodio è accaduto a biella in via vertodano verso le 23 la donna appena si è accorta di non poter far uscire il figlio dal veicolo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco sul posto è giunto una squadra di pompieri ma il loro intervento in realtà non è stato necessario i pompieri si sono limitati a resticurare il piccolo mentre la madre correva a recuperare un doppione della chiave qualche minuto dopo il bimbo ha potuto riabbracciare la sua mamma prosegue il caldo nella giornata odierna le temperature minime si dovrebbero mantenere tra i 18 e i 20 gradi aumenterà anche la sensazione di caldo nelle principali ore della giornata il termometro segnerà 35 gradi ma a causa dei livelli di umidità alti la temperatura percepita sarà di 38 da domani il graduale avvicinamento di una sacca atlantica dalla francia inizierà a portare un graduale aumento dell'instabilità atmosferica giornata indimenticabile per la festa dei vent'anni del bungee center di veglio tra salti spettacolari e tantissime emozioni perfettamente riuscito il salto con la moto da un'altezza di 152 metri l'impresa è stata effettuata da alessio ponta freestyler del team da boot a bordo di una moto da trial messa a disposizione dalla scuola internazionale di trial valsesia per oggi è tutto vi auguro una buona giornata